Oggi mi trovo a Milano e vi mostro un bellissimo attico all'undicesimo piano di un elegantissimo palazzo in zona San Siro. Avevate mai immaginato di poter fare un bagno in piscina a Milano su un terrazzo con vista incredibile sulle montagne e sull'ippodromo? L'attico si dispone su due livelli, qui ci troviamo al piano superiore dove abbiamo questa incredibile terrazza con piscina, zona pranzo, cucina esterna e all'interno una bellissima zona giorno. Salo da pranzo, molto elegante con tavolo rotondo e vista sul terrazzo. Scendendo questi gradini proviamo la cucina a vista ma ben separata, con piano in marmo, vista sull'esterno. E' bellissimo contrasto tra questo pavimento in travertino veramente elegante e il soffitto in legno sbiancato. Questa scala sospesa ci conduce al piano inferiore, in questo salone di grande rappresentanza con zona tv divano. Tavolo da biliardo in cristallo, separato da questo acquario di design, una zona bar. Splendida la scelta dei materiali, pavimento in marmo travertino ripreso anche sulle pareti. E' in contrasto questa parete in legno, che richiama il legno delle scale, della libreria e dell'acquario. Bagno per gli ospiti e dietro questa porta una lavanderia. Da questo corridoio inizia la zona notte. Prima camera da letto, con suo terrazzo e vista sull'ippodromo. Armadi su misura E bagno Seconda camera Suite matrimoniale con camera Bagno interno E uscita E cabina armadio Bagno Un altro bagno Altra suite con bagno interno E uscita sul terrazzo Quarta e ultima camera Con terrazzo Oggi ho avuto l'onore di scoprire un attico con delle caratteristiche davvero uniche. L'utilizzo meraviglioso dei materiali La divisione degli spazi La vista completamente immersa nel verde E ultimo ma non ultimo La possibilità di poter goder di una piscina così in un palazzo a Milano Io me ne sono innamorata Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Ciao 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 Ciao